Come vuoi? Amici di Cuneo Dice, siamo qui con Marco Delfino, all'inatrice del Busca. Oggi una sconfitta, forse meritate punti, però purtroppo il campo parla chiaro. Così è? Sì, oggi purtroppo il risultato è negativo, però mi tengo alla prestazione che abbiamo fatto, che secondo me è stata una prestazione importante contro un avversario forte, e quindi bisogna tenere conto anche di quello. Ai punti credo che meritassimo il pareggio, però come dico sempre ai ragazzi, se non lo raggiungiamo vuol dire che qualche errore l'abbiamo commesso. E quindi quello c'è stato, però l'ho detto prima negli spogliati ai ragazzi, se continuiamo così ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Sì, anche perché siete stati raggiunti in classifica a 32 punti dal San Sebastiano, però il Carmagnola rimane a 36, quindi 4 punti non sono irraggiungibili. Sì, no, ma noi la classifica è corta, quindi ogni domenica si può guadagnare, si può perdere, sarà un campionato probabilmente equilibrato fino alla fine, adesso il Carmagnola è stato un po' ripreso, ecco, quindi dobbiamo fare una partita alla volta e giocarle come abbiamo giocato oggi e poi alla fine tireremo le somme, ma se continuiamo così sono molto fiducioso. Il portiere al Barzella ha fatto delle parate straordinarie? Eh sì, il portiere è anche lì per quello, però quello che mi interessa è stata la prestazione, io faccio veramente... Che modo tu dai suoi? Ma oggi non sono mai troppo largo, quindi do un bel sette sicuramente. Solo merito. Sì. Grazie, viste. Prego.